Ciao, sono Umberto, sono professionista nel mondo della formazione e della consulenza aziendale e ho conosciuto Alfio personalmente qualche anno fa e per me è stato un incontro molto importante perché ho sempre vissuto della mia professione, ho sempre campato con quello che io facevo tutti i giorni e ho iniziato a capire i concetti di libertà finanziaria e da qualche tempo frequentando i corsi di Alfio ho capito che devo fare qualcos'altro per costruirmi la mia libertà finanziaria e questo l'ho fatto, l'ho fatto facendo attività immobiliari con Alfio e soprattutto costruendomi delle royalties che mi portano a far crescere il mio business indipendentemente dalla mia attività principale che è quella della formazione, io vado in aula spesso ma c'è qualcos'altro che sto costruendo parallelamente. Quei Cap Call ci devi essere perché è uno show ma di contenuti, è organizzato meravigliosamente e quando sei insieme a 3.000 persone hai un'energia e una partecipazione che raramente ho trovato in altre parti, quindi è contenuto e spettacolo nello stesso momento. Io lo consiglierei anche perché l'ambiente è veramente positivo, anche perché si tratta, poi si parla di cose che toccano un po' tutti noi e quindi è assolutamente consigliabile.